e ben a tutti ragazzi sono Gilbeu e sono qui oggi a mostrarvi quella che sarà la mappa del tesoro la soluzione della mappa del tesoro situata a Shifty Shop allora raga prima di cominciare vi ricordo che come ogni volta saluto due persone che hanno iniziato a seguirmi o hanno messo mi piace al mio profilo instagram che si chiama gilbeu con due e una è Giulia Alecci che ha iniziato a seguirmi e l'altro è Coluccia Enrico che ha iniziato a seguirmi allora raga oltre a questo vi ricordo e voglio ricordarvi che ho creato un canale telegram in cui vi mostro le migliori offerte giornaliere riguardo i prodotti tech quindi ad esempio se dovete comprare un mouse alla tastiera andate su questo gruppo qua perché ad esempio ieri ho postato il link per comprare il mouse di ninja a 35 ore in meno quindi se volete entrare vi lascio in sovrimpressione il nome e il link in descrizione allora raga direi che possiamo iniziare allora raga come potete vedere il punto che vi sto indicando adesso sarà l'esatto punto dove troverete la stellina segreta vi ricordo soprattutto che dovete seguire la mappa del tesoro non dovete andare a cercarla pensi ve la mostro direttamente io qua quindi siete tranquilli non dovete andare a trovarla a Shifty andate direttamente qua per la stellina che si troverà sopra questa montagna qua che è situata vicino a Borgo non è sulla punta bensì raga è nella parte leggermente sotto quella che vi sto mostrando esattamente adesso la troverete qua nel caso in cui non la troviate lì tornate in questo video e guardate che vi lascio un commento in evidenza in cui vi dico l'esatto posto perché io sto facendo il video la sera prima quindi non c'è ancora l'esatto punto bensì sono tutti i leaks quindi previsioni quindi nulla raga spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like, un commentino e niente raga iscrivetevi al canale bella ragazzuoli ciao 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 ciao